Musica Grossa novità di quest'anno, è una scarpa specifica da Nordic Walking, si chiama Aria, abbiamo due versioni men e una versione lady. Le specificità di questa scarpa sono l'allacciatura, molto veloce una volta scelta l'allacciatura ideale per il piede e prende spunto il nome Aria dalla particolare areazione del sottopiede e soprattutto dalle camere interne che danno la possibilità al piede di rimanere molto fresco. Questa è stata studiata per fare del Nordic Walking in tranquillità e senza avere un'elevata sudorazione del piede. Una specificità di quest'anno riguardante questa scarpa è che andiamo a completare il mondo dei professionisti andando a fare delle forniture specifiche per le scuole di Nordic Walking. Musica 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 Musica